e siamo arrivati all'8 ottobre 2020 giovedì oggi un four time 600 metri di corsa due round di dt 600 metri di corsa due round di dt 600 metri di corsa due round di dt e poi 600 metri di corsa come cash out vi ricordo che un round di dt è composto da 12 deadlift 9 hand power clean e 6 push jerk come al solito il peso delle scalature sulla grafica ci vediamo domani venerdì per l'ultimo watt della settimana ciao